Buonasera e ben trovati in questo spazio nel quale parleremo di mercato e lo faremo con Marco Cirillo che tutti conoscono come Lampo, la parte del mercato è quella coperta del pesce. Esattamente. Buonasera Cirillo. Buonasera a te, buonasera a tutti. La prima domanda è d'obbligo Cirillo perché ovviamente, anzi Lampo, come richiamiamola così, è più conosciuto anche in città con questo nome perché la conoscono davvero tutti. Come sta il mercato dopo questa ondata l'ennesima relativa al covid? Ma questa ondata del covid? Sì, il mercato sta riprendendo abbastanza bene. Non nascondo il fatto che ci sono stati alcuni miei colleghi che sono stati positivi al tampone, ma vorrei subito dire, così si apre in seguito parentesi, proprio 5 minuti fa parlavo con un'altra collega che ha aperto da poco, stanno tutti benissimo e scoppiano di ottima salute. Tutti. Anche perché cerchiamo di non creare allarivismi sui social network, io non ho Facebook, ma sento tante di quelle stupidaggini, poi oltretutto non sanno neanche ne scrivere e ne leggere, quindi sarebbe più opportuno prima di scrivere o prima di dire qualcosa di accertarsi delle cose. Sì che è successo questo caso, poi non significa perché uno sia positivo al tampone e deve avere per forza il covid perché poi i tamponi andrebbero fatti anche due volte. Comunque questa situazione si sta sciogliendo abbastanza bene, quindi tranquillizzo tutti i cittadini di Civitavecchia a venire di nuovo al mercato, specialmente vista e considerato che siamo vicini sotto le festività di Pasqua, è tutto a posto e che posso dire? E poi questo caso non è che poi sia successo solo a Civitavecchia, perché poi Civitavecchia non è una città, ma è un grande paese. È successo in quasi tutte le parti d'Italia e del mondo e l'abbiamo superato brillantemente, anzi è una volta buona che quindi abbiamo il virus già naturale per combattere, è una battuta. Marco, anzi ti dirò di più, insomma, alla fine è anche un segno di responsabilità da parte degli operatori che hanno gestito nel modo corretto quello che può capitare a tutti. Esattamente, non posso fare i nomi dei miei colleghi, ma devo dare atto che è stato un senso di responsabilità, perché volendo tante cose si potevano anche nascondere, visto che li conosco e sono tutti dei professionisti dalla A alla Z, la loro responsabilità è stata giustamente di stare a casa in quarantena. È stata una cosa giusta, giusta per rispetto di noi operatori e anche di chi viene a fare la spesa al mercato. Operatori che possono quindi continuare a lavorare. Esattamente. C'è stata una leggera flessione, avete notato una flessione per quanto riguarda le persone che frequentano il mercato oppure non ci sono stati cali? No, beh, leggera flessione, se andiamo a guardare francamente qui è una leggera flessione che sta in tutta Italia e in tutte le parti d'Europa, perché non ci nascondiamo il fatto che questa pandemia che c'è stata c'è e ci sarà ancora, ha portato veramente dei tracogli enormi. L'Italia in se stessa ha circa il 180% del debito pubblico, ormai non si saprà nemmeno se riusciamo a pagare questo debito. Quindi questa crisi l'ha portata in tutte le piccole e medie imprese e anche grandi imprese. Quindi è arrivata anche al mercato? È arrivata anche al mercato, come in tutti i mercati d'Italia e del mondo, perché non ce n'è anche ne solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutte le parti del mondo. È un discorso che bisogna fare sempre un pochettino anche a grandi linee. Poi bisogna essere intelligente a capire come superare questa crisi dovuta anche da questa pandemia. E direi che il fatto che gli operatori sappiano gestire queste situazioni pericolose è già un segnale positivo in attesa della campagna vaccinale che può aiutarci finalmente a uscire da questo tunnel. No, dici benissimo. Adesso con la scienza fa passi e progressi enormi. Prima per fare il vaccino ci volevano almeno uno studio di due anni, adesso invece credo tanti vaccini, adesso mi viene in mente l'AstraZeneca, ma credo che ci sia anche una farmacia italiana, poi la Johnson & Johnson, c'è un imbarazzo della scelta. È giusto quindi che chi si vuole fare il vaccino se lo faccia, è una cosa buona e giusta, ma condivido anche il fatto per carità che bisogna anche rispettare quella poca percentuale che non vuole farselo. L'importante è che bisogna avere rispetto l'uno con l'altro, però il vaccino chiaramente è una cosa molto importante che speriamo il più presto possibile si possa iniziare a lavorare senza questo terrorismo e con la paura di scendere, andare per le strade, comprare, con questa paura di avere insomma questa influenza, chiaramente un'influenza grave che ha fatto danni. È cambiato un po' anche il rapporto con la clientela, ma vedete riscontato un po' più di paura, un po' più di timore, un po' più di stacco dal vostro pubblico? Si chiama distanziamento, sì, ma non nascondo il fatto che per carità, dispiace che è successo questo, ma secondo il mio pensiero siamo di fronte a un profondo cambiamento culturale, socio-economico a livello proprio mondiale chiaramente, perché non crediate che finita la pandemia torni tutto come prima, toglietevelo dalla testa, è impossibile, siamo di fronte a un nuovo cambiamento, basti solo pensare che le scuole adesso fanno l'istruzione a DAD, esattamente, a distanza non conosco i termini tecnici, c'è il distanziamento, ci sono delle riunioni che si fanno con le grandi aziende che si fanno adesso diciamo sempre con la webcam senza spostarsi, certo per quanto mi riguarda il mio punto di vista si sta creando una società sociale, però d'altronde non bisogna neanche andare contro corrente perché se questo si vuole bisogna farlo, quindi sì, c'è un cambiamento, ci sono in base a questo cambiamento si stanno vedendo tutta una serie di evoluzioni diverse da come si può fare la spesa, ma basti solo pensare che io, ma come tanti altri colleghi, appena c'è fu il primo lockdown, io dicevo qui non viene gente, come devo fare? Ho iniziato ad usare i social network, i whatsapp e tuttora ci lavoro, quindi bisogna in un certo senso rinventarsi. Ingegnarsi e quindi anche... Esattamente, certo. Avete intraveso anche questa strada quindi, cioè potete prenotare, si può prenotare il pesce o comunque qualsiasi altra cosa c'è, no? È chiaro. Beh, io questo ti dico la verità, non posso parlare a nome di altri, io credo che sia logico che le piccole e medie imprese e chi vuole andare avanti perché la concorrenza sarà ancora più spietata, visto che siamo nella globalizzazione, rinventarsi usando i social network, altrimenti si sta fuori dai giochi. Però faticate, no? Perché voi siete abituati anche ad avere un rapporto, no? Poi alla fine è stretto con la clientela, si chiama il cliente, lo invita a vedere la roba bella che c'è al mercato, no? Quello che dice è verissimo, ma in realtà poi generalmente la fascia anziana delle persone usa delle tradizioni e poi, ripeto, non c'è miglior cosa che venire, guardare il prodotto, qualunque genere di prodotto, fare contrattazione e comprarlo. Lì non ci sono social network. Però, visto che sta cambiando anche qui, perché allora bisogna in un certo senso rinventarsi, usare dei nuovi ingegni, ma secondo me chi già crea e inventa diviene automatico, quindi per carità il mercato rimarrà e sarà un po' come il Colosseo di Roma e ci sarà sempre, perché le tradizioni, la nostra Italia al nostro meraviglioso paese, non le dimentichiamo perché abbiamo delle profonde radici, siamo pieni di milioni di borghi, quindi questo problema noi non ce l'abbiamo. Il problema è altro, il problema è che se non iniziamo un pochettino ad alzarci la testa, insomma, a tirare fuori grinta, c'è il rischio che questo nostro gioiello venga comprato. In che senso? Nel senso che con questo cambiamento ho la mia paura che se questa nuova politica, quindi questa nuova classe politica, da 15 anni a stamattina, non tira fuori le palle, c'è il rischio che altre grandi nazioni se la possano comprare, non faccio nomi e cognomi chiaramente. Il fatto è che secondo me questa nuova classe politica, alcuni la chiamano la terza repubblica, ma non meritano secondo me questo, perché non è una terza repubblica. Per quanto mi riguarda, per me questa è una politica vassalla. Secondo me sono dei camerieri al servizio di, questo è il mio punto di vista. Parliamo del nuovo governo Draghi che si è da poco insediato? Non si parla solo del nuovo governo Draghi, perché poi tutto sommato Draghi per quanto possa essere una persona di un'intelligenza, è stato anche presidente della PC, non è che è stato messo lì apposta, è di un'estrema intelligenza, ma lui non è politico, lui fa i conti e quindi sicuramente lui sta lì per risanare tutti i conti e l'ultima azienda rimasta in Italia, chiaramente lui sarà costretto a svenderle visto che stanno in perdita, io avrei fatto la stessa cosa. Ma proprio l'Italia in se stesso, questa nuova politica, perché secondo me anche fare politica ai tempi di prima, che c'era prima una classe politica di destra, di sinistra, si creavano le riunioni, non c'è più, tutti vanno lì, chi diventa presidente nel Consiglio, quello che venne in Bibbia e da adesso sta a fare il Ministro, per fare politica come tutti i messieri si nasce da là, bisogna studiare, bisogna fare le cavette, ecco che il Paese è stato, secondo me, in mano delle persone incompetenti e quindi poi, ma non tanto l'incompetenza poi, secondo me una politica senza, come posso dire, sovranità, consentimi il termine, secondo me non è più politica. Forse serve appunto riscoprire anche poi quello che è il senso della politica, quello di mettersi a disposizione e risolvere i problemi della popolazione. Della nazione, della popolazione, ma questi non risolvono i problemi, io capisco che chiunque abbia preso questa situazione è un po' come prendere delle patate bollenti, per carità, però io parlo in se stesso dei personaggi che li vedi, proprio non rappresentano, diceva bene mio nonno, quelli che vengono dopo sono peggio. E' una situazione complicata anche per via del Covid però, perché in questo momento diciamo anche discutere della situazione politica diventa più difficile perché ovviamente c'è l'alibi, possiamo chiamarlo così, l'alibi del Covid che rallenta un po' tutto, che fa avere altre attenzioni. Sì, però vorrei ricordarti che anche, basta guardare la prima Repubblica, i politici della prima e della seconda Repubblica non hanno avuto questo tipo di situazioni, ma situazioni, se ti ricordi della seconda Repubblica c'era il rischio che la Russia poteva fare la guerra in America, è intervenuto il Papa, quella era gente che in un secondo doveva dare una parola al momento giusto per delle situazioni importanti, questi non hanno studiato, sono incompetenti, non hanno studiato, ci vuole tutti quei personaggi di prima, hanno fatto la cavetta, se tu vuoi diventare generale, va bene, prima devi fare un buon generale e colui che ha fatto il soldato, ecco perché poi si crea questo schilibrio e secondo me chi sta ancora al di sopra, vuole proprio mettere in questi punti nevragici persone incompetenti. E a rischio c'è l'Italia. E a rischio siamo sempre noi chiaramente. Marco, torniamo però al nostro mercato, al mercato di Civitavecchia, perché come lei giustamente ha detto, anzi come tu giustamente hai detto, ormai ci diamo del tu, si parla tanto delle tradizioni, ci avviciniamo alla Pasqua e le tradizioni non si dimenticano, vi aspettate o comunque state già riscontrando un avvicinamento delle persone, un appunto riscoperta se vogliamo anche delle tradizioni pasquali? No, non lo stiamo riscontrando puntualmente, proprio oggi sono stato a lavorare al mercato e riscontro piano piano di persone che vengono, che chiamano e che si informano per il venerdì santo che generalmente si compra il pesce e cosa buona e giusta e per l'abbacchio, per l'agnello, per le pizze di Pasqua, no, beh, generalmente in questo tipo di festività si spostano sempre gli ultimi due o tre giorni. Una cosa molto buona che sta nascendo è che in questi piccoli paesi, in queste piccole città si sta riscoprendo dai giovani, quindi ritorno al discorso di prima, perché i giovani non facendo la movita adesso li vedi la mattina al mercato, una cosa meravigliosa, ma 20-25 anni che si organizzano, vengono al mercato a preparare i pranzi e stanno a pranzo a cena a casa loro, perché chiaramente loro anche qualche... e creano delle feste sempre in sicurezza e tutto, è una nuova, diciamo, moda, vedo tanti giovani che vengono a comprare cosa che magari... ecco perché tante cose poi cambiano, ok? E tanti giovani che adesso verranno qui il fine settimana, già si sono informati, faranno delle cene, la pacchia, l'agnello, il pesce, quindi la gente si sta rimuovendo piano piano e noi abbiamo degli ottimi riscontri. Ed è una cosa molto piacevole, no, perché ecco, forse c'era un po' di stacco, no, se vogliamo, dal mercato, no, con gli anziani un po' che frequentavano il mercato e non la gioventù. È una cosa piacevole perché sembra che stia ritornando, che la gioventù chiaramente... Tornate di moda! Esattamente, perché? Perché chiaramente i nuovi giovani da 25 a 30 anni, che cosa succede? Chiaramente stando tutti i giorni sui social network, perché ormai ecco il cambiamento che dicevo, provate voi tutti a prendere quel cellulare che è la nostra parte integrante, e io compreso, a metterlo 5 giorni spento. Non ci riuscite, è impossibile. Allora dico io, quelli che hanno 60 anni come facevano? Eccolo che sta il cambiamento. Quindi i nuovi giovani venendo al mercato in questi posti molto caratteristici, ma tu li vedi, pare che vedono loro, perché poi chiaramente con le loro esigenze e con la nuova loro modo di fare, con la loro nuova società e modo di lavorare, vedendo in un mercato il rapporto con la persona, loro rimangono entusiasmati e sballorditi, ma noi questo ce l'abbiamo sempre avuto. Ecco perché le tradizioni servono a far capire poi in realtà i giovani cos'è la realtà. Anche perché insomma, come hai detto in precedenza, insomma voi avete un rapporto anche molto diretto con le persone, magari il ragazzo un po' timido, insomma si sblocca un po'. Esattamente, è giusto quello che dici. Lo chiamate, lo invitiamo, lo chiappate, lo prendete. Sì, lo chiappiamo proprio, io poi specialmente come faccio io, sono incredibile, sì è vero, ma sono sistemi che poi noi abbiamo sempre avuto, poi a volte vado su delle piattaforme e vedo delle tecniche di vendita, perché funzionano insomma tutti questi termini che purtroppo mi devo imparare anch'io, però poi alla fine sono tecniche che noi comunemente usiamo al mercato. Per quanto riguarda il mercato nel senso più ampio, diciamo, com'è la situazione? Cioè se ne è fatto un gran parlare anche in precedenza, probabilmente è un po' che non se ne parla negli anni passati, su alcune situazioni che c'erano da risolvere, adesso la situazione è tornata stabile, tranquilla? La situazione è tornata stabile, anche se poi in realtà il mercato è un po' un elefante, no? Si muove a passi lenti, a differenza magari da grandi centri commerciali che li cambiano velocemente, ma va bene, ma poi alla fine chi inventa siamo sempre noi, poi loro magari ci copiano, ma noi ce lo facciamo spontaneamente. Sì, ci sono delle situazioni in cui credo che debbano essere ristrutturate alcune parti del mercato, però non vorrei dirti un'eresia, una bugia, perché tecnicamente, sul tecnico non lo so, la situazione è tranquilla. La situazione comunque, proprio da ieri è ritornata tranquilla e quindi ci aspettiamo sempre cose più belle, insomma, ma quello dipende da noi. Abbiamo visto anche che qualcuno è stato chiuso, ci abbiamo alla chiusura del nostro spazio, purtroppo per via del Covid qualcuno è stato chiuso, qualcuno ha dovuto chiudere anzi o meglio, sia per i casi di positività, ma proprio anche per la merce che vendeva e c'è stata una grande solidarietà da parte di voi commercianti. A volte si dice, uno non può vedere l'altro collega di mercato, ma in realtà si era un gruppo unito. Assolutamente sì, ma come dico sempre io, al mercato più siamo e meglio è. Il nostro sogno nel cassetto sarebbe... no, non lo dico. Lo teniamo, si vedo. Lo teniamo, qualcuno ci riesce a copiare. Come dico io, non è più come prima, meno siamo e più forti siamo. No, più siamo perché ogni piccola e media impresa che sta nel mercato come in altri mercati, sono tutti dei piccoli gioielli che hanno una propria tecnica, una propria tecnica, sono tutta una serie di colori. Più colori sono e più il mercato è forte, quindi è chiaro che la mancanza di alcuni colleghi che ritorneranno tra poco si sente un pochettino perché poi alla fine l'uno non si vuole vedere con l'altro, ma alla fine poi tutto sommato, fuori da quello, è quell'unione di diversità, è quell'unione di diversità che noi non ci rendiamo conto che fa questo arcobaleno, ecco. Essere veramente un gruppo unito, l'abbiamo visto anche in occasione di qualche protesta, se vogliamo parlare, una occasione di confronto con l'amministrazione comunale, presenti e passati. Giusto, siamo sempre alla fine in circostanze serie, precise, prendiamo il toro un po' per le corna, insomma questo ce l'hanno insegnato i nostri precedenti, quelli che ci stavano prima, poi quando c'era affrontare situazioni serie, se ti ricordi tra cui il spostamento dal mercato vecchio a quello nuovo, ci sono state situazioni molto particolari che poi siamo riusciti sempre brillantemente prendendo il toro per le corna a risolverle, a gestirle. Prima di chiudere, si parla tanto di questa famosa vocazione turistica della nostra città che potrebbe avere con una maggiore concentrazione di turisti che girano per la città, si parla tanto del crocerismo che al nostro porto è uno dei più importanti a livello europeo, voi sotto questo punto di vista come la pensate? Perché ci sono altre realtà anche europee in cui il mercato è proprio il centro della città, non è anche un'attrazione turistica se vogliamo. Giusto, mi ha fatto venire in mente anche una cosa, vorrei dare anche una grande solidarietà a tutti quei taxisti che portano i turisti a Roma che non stanno lavorando e questo mi dispiace francamente perché anche quello tutto sommato la maggior parte sono di Civitavecchia, è un indotto che poi quelli guadagnano e spendono soldi, quindi una mia profonda solidarietà che non se ne è mai parlata. In un momento di sofferenza. In un momento di sofferenza, poi quando tutto ritornerà alla normalità anche se in un modo diverso come dicevo prima, fare venire il turista al mercato, quello d'altronde sai com'è, i turisti li prendono come diciamo sempre sotto le navi, viene chiamato quindi il porto di Roma, non di Civitavecchia. Non ci passano. Non ci passano. Però inventare un percorso lì sarebbe interessante. L'invenzione di un percorso sarebbe molto interessante, anche se poi una bassissima percentuale che poi di passa percentuale si parla almeno di quasi centinaia di turisti al giorno ci passano. Li vedete? Li vediamo. Un 10% su un milione, un milione quindi su 100 persone 10, 10% che sono tanti. Dipende quindi da noi, e io lo sto studiando questo e fra un po' lo metterò in alto, come colpire quei turisti e fargli comprare qualcosa. A farne venire di più non è facile, perché poi anche lì è un indotto talmente grosso che ci sono dei, anche lì purtroppo caro mio, non ci nascondiamo, ci sono dei grandi poteri che hanno delle lobby, quindi bisognerebbe avere una rappresentanza con il pacchetto in saccoccia, andare da chi di dovere e metterci a parlare. Ma così non è facile con 200 operatori andare lì a parlare con quei signori, però noi abbiamo per inerzia questa fortuna di avere un 10% che ci passa e non è poco. Ecco appunto tramite anche magari i social o comunque lo sviluppo di internet uno può fare anche da solo, perché come ho detto ci ricordiamo il mercato di Barcellona, un altro mercato, comunque veramente la gente ci va anche a vedere quali sono i prodotti caratteristici di un posto. Esattamente, la fortuna è l'antichità che noi abbiamo, la tradizione, ma non solo ripeto al mercato ma anche a Barcellona o in tutti i mercati del mondo. Questo è un sogno. È un sogno e anche come dicevi bene te, grazie ai social network siamo ancora più conosciuti. Esatto e potete farvi valere. Abbiamo rubato un piccolo segreto quindi a Marco Cillo che se lo stava tenendo per sé poi piano piano siamo riusciti a farglielo scucire l'ampo per tutti quanti quelli che frequentano il mercato. Ti ringrazio tantissimo per essere stato in trasmissione, se vuoi lanciare un ultimo saluto e anche gli auguri di Pasqua alle persone. Sono io a ringraziare a te e a questo meraviglioso studio, vorrei fare gli auguri di Buona Pasqua a tutta Civitavecchia. Un messaggio che posso dare è molto importante, mi raccomando a voi nuovi giovani con i social network non ci lavorate, scusate, non vi chiudete lì e non ci giocare. Avete un'opportunità che secondo me potete veramente mettere in atto, ma usate la vostra testa e cercate comunque poi e chiudo di essere liberi e di pensare a quello che voi dovete pensare nel bene o nel male. Una buona Pasqua a tutti. Grazie ancora Marco Cirillo in arte lampo per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche a voi e grazie per averci seguito in questo spazio di Telecivita Vecchia. Rimanete con noi perché ci sono altri programmi a seguire. Arrivederci.